Le radici storiche della Fiera dell'Agricoltura di Lanciano sono salde e traggono l'infa dalle tradizionali fiere e mercati che nel passato diedero prestigio al capoluogo frentano. La prima edizione nel 1961 ha segnato l'inizio di un percorso importante, un cammino non privo di ostacoli ed insidie, ma le difficoltà non hanno mai messo in discussione l'efficacia di questa rassegna, fiore all'occhiello dell'ente, nonché appuntamento irrinunciabile per tutto il settore agricolo. E da ieri a Lanciano Fiera si festeggia la 53esima edizione. I riflettori sono ancora una volta accesi sui 65.000 metri quadrati espositivi e le giornate sono intense con un programma di convegne e di incontri di grande interesse. La Fiera dell'Agricoltura rappresenta il punto d'incontro tra domanda e offerta ed è quindi una costruttiva occasione per promuovere e far conoscere a migliaia di visitatori il meglio degli strumenti e delle attrezzature per un'agricoltura che diventa sempre più competitiva e che mai, come in questo periodo, è tornata ad essere una risorsa fondamentale non soltanto per il nostro territorio. La Fiera ha acquisito un patrimonio considerevole per diversi aspetti, ha evidenziato il Presidente Franco Ferrante, un bagaglio di esperienze e conoscenze dei mercati nazionali e internazionali che ha contribuito a rendere questa rassegna sempre più specializzata, senza mai perdere di vista l'obiettivo prioritario che è quello di essere il trade union tra mercato e aziende, fornendo agli imprenditori informazioni e strumenti utili alla loro attività. Sono presenti 250 espositori e sono rappresentate circa 50 ditte. C'è stato un incremento di adessioni rispetto alla passata edizione che pure ha avuto risultati lusinghieri. Quest'anno la rassegna si presenta ancora più completa e gli argomenti oggetto dei convegni sono di indiscusso interesse, affrontano aspetti di rilievo per il comparto agricolo, settore strategico per l'economia della nostra Regione e non solo. L'intero comparto agricolo, in tutte le sue molteplici sfaccettature, trova spazio nei quattro tradizionali settori, coltivare piani di programmazione per la trasformazione agraria e meccanica agricola, allevare piccoli animali, zootecnia, farmacologia e attrezzature, omnia verde, verde pubblico e privato, prodotti specifici, biotecnologie, piante e sementi, e servizi all'impresa, enti pubblici e privati, società che operano nel terziario avanzato. Tutte le attrezzature e i mezzi meccanici per la lavorazione del terreno sono nel padiglione 1, le macchine olearie insieme ai trattori e ai mezzi pesanti trovano posto nel padiglione 2, mentre il 3 ospita come sempre piante, fiori, sementi, fertilizzanti e tutti sistemi utili per un'agricoltura sostenibile e di qualità. La fiera punta anche sulle fonti energetiche rinnovabili che rappresentano un altro aspetto centrale della sostenibilità, non solo per l'ambiente ma anche economica, perché consentono di diminuire l'impatto ambientale della produzione e di migliorare i conti dell'azienda. Nel padiglione 3 la qualità è presente con le aziende di Campagna Amica, promossa dalla CIE e dalla Coldiretti, che vede anche la presenza dell'Associazione Donne in Campo, uno spazio dominato dai profumi e dai sapori di prodotti di qualità, risultato di un lavoro di cura, dell'attenzione per le colture e gli allevamenti. Per i tantissimi visitatori che, come sempre, affolleranno gli stand della fiera, non mancano le osi verdi e colorate degli stand riservati alle piante, dalle aromatiche a quelle per arredare e profumare giardini, terrazze e balconi. E per chi vuole sperimentare il proprio pollice verde, non c'è che l'imbarazzo di scegliere tra le tante sementi in vendita.